Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi è uscito l'ultimo blocco di sfide a tempo straordinario. Quello che ci garantirà il pass battaglia gratuito della stagione numero 8. Oggi voglio parlarvi dell'unica sfida un po' particolare che è quella di cercare scatole di munizioni e forzieri in una pista da corsa che è ovviamente quella che state vedendo sotto di me e ci sono due forzieri qua, due forzieri qua e almeno altri tre o quattro in questa location oltre ad essercene uno qua e uno all'esterno. Ma ragazzi la discoteca loro credo intendano ovviamente l'unica discoteca, una delle forse due ce ne sono rimaste in game che dovrebbe essere quella nel sotterraneo della casa dei supereroi. Proviamo subito ragazzi insieme a vedere se recuperando un cesto, una cassa di munizioni che generalmente sono nascoste in una di queste aree, ad esempio qua ce n'è una, ci dà una missione. Vediamo un po', ed infatti ragazzi la discoteca è proprio questa. Voglio vedere per curiosità se per caso ce ne siano, cioè siano contati anche i piani superiori. Penso che ci sia gente, adesso io sto giocando senza l'audio. Vediamo subito se sono contati anche i piani superiori. Se fosse così vi consiglio di buttarvi a capofitto direttamente in questa area della mappa in modo da poter fare la vostra missione nella maniera più veloce possibile. Al secondo piano dovrebbe esserci qualche cosa, vediamo, vediamo, non c'è neanche un forziere, diamogli un'occhiata all'esterno, dovrebbe esserci qua, vediamo. Viene contata ragazzi, quindi la discoteca è la casa dei supereroi, mentre invece la pista da racing è appunto la pista da racing. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e buone sfide a tutti! Ciao!